Speriamo di non aver offeso nessuno, anche perché insomma è bello ridere anche su cose religiose, io penso che lo ha chiesto adesso con un papa rivoluzionario, come quello che c'è. No, è un po' rigido, perché io ho visto da quando è caduto quella volta, quella volta che una ragazza ha tentato di... Non è caduto come tutti gli esseri normali, e quando a casa non cercano di impararsi. Lui è andato giù e... C'è quella cosa che mi ha colpita. C'è un papa, sentì la voce, va giù di faccia, va giù di faccia. Forse per come è vestito, adobato, adobbile. Adobbile, ma non è che va a... La mitria, tira giù la mitria. Anche il bastone ha cose. Se cadeva invece che in Vaticano, in piazza del Duomo a Milano, passa il filobus e si cadeva. C'è su San Giovanni, Monza, piazza del Duomo. Quello che mi stupisce però, io l'ho visto bene, anche i suoi amici, i suoi amici, i suoi colleghi, i compagni, i compagni, i... Per Diana. Diana è nuda, la cacciatrice. Il trivio, l'ha già detto il vice. Per Dindirindina. No, è lungo, uno cade, non quente... E Dindirindina dice che tutto si viene alzato. Però un po' stia. Che poi voglio dire, uno dice scherzi che sono vecchi e non hanno i riflessi. Ma santa miseria! E questo qui, santa miseria, c'è in tutto l'addobolo, l'amici, c'è uno strascico di due metri, anche se ti cade a due metri. Vieni di casa, c'è uno strascico di due metri. Bisogna sempre stare allegri in quel paese. E allora adesso, come si chiama quel signore vestito di bianco? Baglioni. No, non Baglioni. 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 Signor Baglioni. Grazie. Prego. Allora... Venga da... Venga dalla mia parte. Da quella parte. Passo dietro, non mi stupare. In grado io sia il principale, questa sera passo dietro. Venga, venga. C'è uno in seconda fila che mi fissa da un quarto d'ora. C'è uno in seconda fila che mi fissa da un quarto d'ora. Vanno sul banco con chi l'ha scritta. Benzo Iarnanci, Dario Fo e Giorgio Gabel. E stasera... Scusi, però la precisazione, non capito. Perché hai precisato l'onore comunque con questo... Ho avuto l'onore di parla con chi l'ha scritta. Quindi vuol dire che stasera ci sono io, eh? Stasera ho il piacere di distruggerla... Va bene, pronti? Allora... Non lo facciamo in là. Più in là, però... Se volete farlo in lì, basta che la fate in là. Io la farei in qui 10, vicino a qui. Ecco, sì. Fa in là. Ho visto un re in là. Allora io la farei country. Country. Come? Country. Country rock? No, country western. Country western. Ding dong. C'hanno messo anche i gobole. C'è il testo scritto. Eh, non lo guardare perché sono in bando in confusione. No. Bando in confusione perché rischiamo di farla giusta. Però questo è in country note. Ding dong. Ding dong. Ring dong. Ring dong. Che, che, che... Che animal è questo? Si, sicuro che è meglio rimorro. Ring dong. 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 si, oh è so bravo si, a cumminghia vedesti? allora scusate non è che tu ogni volta che vieni in un posto ti adatti al luogo un tributo che tributo? è Pugliese, fa finta di questa è e poi il dottore ha detto country western country western il dottore ha detto, è simpatico del signor Pagoi country western sei Pugliese falla come un Pugliese che cerca di inserirsi con mestizia e terrore nella metropoli e la faccio con la lingua padana della lingua padana tentando di faccio con la pesca ober si ober si ober si ober si sa la viscus è il pesca, mica me lo invento io che ober ni ober un re che piangeva piangeva tante latine ma tante che bagnava anche il cavallo ober si ober ober e povero anche il cavallo L'imperatore gli ha portato via Un bel castello I 32 che lui c'è da Adesso gliene avanzano 31 32, meno 1, 31 Tu fai la fine di Garfunkel Tu fai prendere il posto io Vedi il posto il dottor Bagliore Dalla prossima giornata Garfunkel Io sono Simon Ho visto un vescovo Un vescovo Che piangeva facendo un gambeccano Voleva anche la mano La mano di chi? La mano del sacristiano Ave, si, ave, si Povero vescovo Grazie ma andiamo fuori il tempo anche da soli Povero vescovo Povero vescovo E il povero chi? E anche il sacrista Ah beh, si E il povero anche il cavallo No! Il cavallo non c'è in sta stroppa È country Non si è mai visto un vescovo a cavallo in un western Andava a piedi il vescovo Andava a piedi come le valchirie L'imperatore si ha portato via E una pazzia Di 32 Che lui c'era Ah beh, si Lì il cavallo è morto Lo sapevo che ce l'aveva lì Sattita Tagliata la testa Che l'ha messo dentro Del zuolo dell'arcipescovo Il ricco piangeva tante lacrime Le calci di vino Che tutto il vino se l'acquava Povero ricco Povero vescovo Perché piangeva il ricco? Il ricco piangeva perché? Perché l'imperatore Gli ha portato via Un emittente Di 32 Che lui c'era A pensire A pensire Visto Vilano Vilano un po' Il cutadino Faccio la iannacci così Cutadino? Cutadino Un cutadino Fuori dalla casa Non si capisce niente Ho visto che l'ha portato via Alla casa Il figlio 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 Il poster Di Little Tony Con la felicità Dei fermenti Lattici Con il poster Mi hanno portato via La moglie militare In afghani La casa La casa È arrivata L'elicottero La protezione civile Con Bertolato L'opera ma lui non piangeva non piangeva? e che faceva? riveva riva chiava perché? perché noi milan il fatto è il fatto è il fatto è che noi milan faccio una solo di più due minuti che noi milan e sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventano questi se noi piangiamo e sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventano questi se noi piangiamo grazie a tutti con Emanuele Tenacuila